Maesta, mamma mia quanto pesa questo scrigno, eccolo, deve aprirlo lei con la sua magia però, metta uno zaccolo sopra il piedistallo a cuore, wow bellissimo, davvero fantastico, non avevo mai sentito parlare di un'arma del genere, sicuro, è super segreta, si usa solo per le emergenze, quando gli elementi dell'armonia non si possono usare, perché non si possono usare? Perché, ecco, è troppo potente la schiera dei mutanti per usare quelli purtroppo. Ah, capisco. E Elena? Sì, mamma? Mi presteresti un tuo gioiello, per favore, Elena? Sii generosa, è per salvare Questria. No, no e poi no, questa collana non la toccherà assolutamente nessuno, mamma, sono stata chiara? È una collana preziosissima, usa un tuo gioiello, e chiedi almeno scusa. Scusa, umpf, vedo che sono costretta a prendere uno dei miei. Serva, per favore, portami un gioiello, uno qualsiasi è perfetto. Sì, maestà, glielo porto immediatamente. Ecco, maestà. Grazie. Questo gioiello va bene? Fammi, mi faccia controllare. Sì, potrebbe andare bene. Allora, come si fa la trasformazione, però? Ci vuole tempo. Deve prima fare un incantesimo allo scrigno. Poi? Poi? Poi deve lasciarceli lì per un'intera giornata, e al tramonto del sol deve rifare l'incantesimo, e anche all'alba. Oh, impegnativa questa cosa. Purtroppo sì, ma è l'unico modo per salvare questia. Molto bene. Qual è l'incantesimo? Come si chiama? L'incantesimo si chiama risveglio dell'antico potere lunare. Non potevate farlo fare a luna, scusate? Purtroppo no, lo scettro della luna non c'entra assolutamente nulla con luna. Però la madre ha chiamato luna così, nell'onore dello scettro, appunto. Però deve farlo lei. Come mai? Perché un'antica leggenda dice che solo la nipote della figlia della regina Skyla può farlo. E lei è l'unica nipote esistente fino adesso. O mi sbaglio? Va bene, va bene, lo faccio. Lo scrigno deve essere chiuso? Sì! Risveglio dello scettro della luna! Aiuto! Maestà! Maestà si sente bene? Vuole che chiami un dottore? No, no, sto bene. Devo solo riposarmi un po'. Al tramonto dovrò rifare questo incantesimo. Il tramonto è tra breve, intanto mi farà un pisolino. Guardia! Maestà, ordini qualsiasi cosa. Svegliami al tramonto. Svegliami al tramonto esatto, mi raccomando. Devi essere puntualissimo. Anche voi due. Ovviamente, maestà. È sicuro che lo faremo. Molto bene. Io devo andare a riposare e devo recuperare le forze. Capito, stallone? Devi svegliarla esattamente al tramonto. Sì, pulcinetta rosa. Uffa! Non sono un pulcino, sono un'aquila reale rosa. È uguale per me. Perché tutti mi prendono per un pulcino secondo te? Perché sei basso. Uffa! Maestà, maestà, è il tramonto esatto. Deve sbrigarsi. Oh, già. Grazie. Portatemi il tesoro. Eccolo qui. Molto bene. È lo stesso incantesimo di prima? Sì. Molto bene. Risvegliati scettro lunare. Sì. Aiuto. Bene. Temo sia tardi ormai. Guardate, il sole sta per tramontare e dare spazio alla luna. Dobbiamo andare tutti quanti a dormire. Bene. Guardia. Cosa c'è, maestà? Voglio che tu faccia la guardiana allo scrigno. È ora di dormire. A tutte e due gli scrigni. Ok, maestà. Bene, Pulcinotto. E ricordati che tutto dipende da questa azione. Sì. Dividiamoci il letto, però. Fate attenzione. Buonanotte. Buonanotte. Tampate allo attesa con una buonanotte. Bubine!